Se volete acquistare crediti passate dalla FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo e con il codice CUPON GIOVISPO otterrete il 3% di sconto, troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e mi iscritti più di tutti, bentornati su GIOVIHDSPO Io sono GIOVISPO e questa è la serie scontro tra titani stagione numero 2 Dovrebbe essere l'episodio numero 6, sì, questo è l'episodio numero 6 Nello scorso episodio ho chiesto di scegliere un difensore centrale Argento della Lega Russa e la vostra scelta è stata di un solo punto di Fernandez Ottimo, secondo me è fortissimo per essere un Argento, ha 80 di testa, 72 di difesa e 70 di velocità quindi secondo me è buonissimo Cricito purtroppo ha ricevuto un cartellino rosso e ora dovrò toglierlo e mettere un bronze in sostituzione questo qui Vabbè, dettagli Allora Per le regole vi rimando al primo episodio Tutto dipenderà dal nostro amato Akimfeb che fino ad ora si sta comportando veramente malissimo E dunque andiamo a giocare la partita e incontriamo, vediamo chi incontriamo in questa partita Eccola la squadra del nostro avversario, è una squadra tutta bronzo Quindi non sembrerebbe particolarmente difficile riuscire a vincerla almeno e cercare di non subire nessuna rete Vediamo se il nostro Akimfeb potrà non subire nessuna rete, tutto dipende da lui Rondon, prende questa palla, corre Rondon, 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 il tiro di Rondon, 1-0 S Rondon al nono minuto Con la maglia numero 9, coincidenza? Vabbè, dettagli, dettagli Onda alla battuta di questo calcio d'angolo Onda a cercare la testa di Fernandez, ci arriva Fernandez Poi c'è Rondon che di testa, Lanzac, 2-0 Ancora Rondon, doppietta quest'oggi Questo è un giocatore che... Attenzione a Tele... C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Ma vaffanculo qui finì mamma... Prende questa palla... Tu comunque ti chiami... Dvornevo... Dvornekovic Lo devo imparare questo nome perché è veramente bravo questo giocatore a bronzetto 3 a 0 Attenzione a Dokkukure Mamma mia chi fe... Mamma mia che schifo Che merda non pari neanche il tiro di un giocatore bronzo Un giocatore a bronzo Mamma mia che schifo questo O' la palla a Rondon La riceve Rondon Rondon al volo Stop e tiro di Rondon Bel giocatore secondo me Vabbè ma... Contro una squadra a bronzo è normale Onda la battuta A questo corner a cercare la testa di Rondon Nooo mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Rondon Cazzo Rondon Quanti gol hai fatto Finisce dunque La partita 5 a 1 Un altro gol subito da Kinf E quindi ora bisognerà aggiungere un giocatore Oro normale Faccio una ricerca E vi dico tra pochissimo Quali saranno le due scelte che Potrete fare Naturalmente scegliendo uno fra questi due Quattro gol Rondon E uno devorne Nekovic Bravo bravo Rondon Bravo bravo Allora Potrete scegliere tra Salvatore Bocchetti italiano Oppure Serdartaschi Entrambi difensori centrali Entrambi secondo me buoni E dunque ragazzi Fate la vostra scelta commentando qui sotto Naturalmente se questo video vi è piaciuto Vi invito a mettere un bello Pollicions E che dire Commentate con la vostra scelta Ci vediamo alla prossima Con un nuovo video Mettete mi piace Alla pagina Facebook Per Pink Slips Ciao E alla prossima